Roger Ayerly in terza posizione provvisore della Q1, parliamo un asfalto rovente per lui, parliamo in inglese e anche un po' lentamente. Roger, mi sento bene con questa piccola track e una buona lap per te. Questa è la posizione del Q1, il Q12 e il Q7, solo tre, un po' di seconda posizione. Sì, il truck è buono, è un po' lentissimo, il sospensione ha un po' problemi, e del primo ruolo, del fuoco, ho un problema del ruolo, del sospensione del ruolo, e magari del prossimo, un po' di più meglio. Ok, vedo te nella seconda qualificazione del Q2 e poi buona fortuna. Grazie mille. Bye bye. Patrizio Binucci in seconda posizione, ma d'altronde lo è anche in campionato a 6 lunghezze da Jarno, e oggi stai faticando un po' e ti vedo un po' giù. Ho raccontato ai nostri ascoltatori qua del tuo problema al polso, ma è il sinistro, non è il destro. Sì, sì, no, 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 nessun problema, lì mi fa male, ma si passa sopra tranquillamente. Faccio un po' fatica su questa pista, ma da sempre, è una pista che mi è un po' ostica. Io mi ricordo nel 2003, addirittura, no, nel 2004, che abbiamo corso insieme e ti soffiai la terza posizione, è che non sei riuscito a sorpassarmi. No, effettivamente è un circuito un po' tortuoso e sorpassare non è facile. Sì, no, vabbè, sorpasso si può fare, però con più difficoltà da altre parti. Ci sono quei punti, non è che ti puoi inventare tanto. Diciamo che la possiamo considerare un circuito proprio training, proprio d'allenamento, no, che poi quando vai su una pista tipo Mugello svolti sicuramente con una certa sicurezza. Ma sono diverse, sono due assetti di moto anche differenti, no, le piste le portano. E qui trovo un po' più difficoltà sia nella messa a punto, nonostante il mezzo sia performante, però sono io che trovo difficoltà a trovare gli ultimi decimi. Iarno è stato velocissimo, vediamo dopo se riesco a limare qualche cosa. Non credo di avvicinarmi al tempo che ha fatto lui, però insomma almeno... D'altronde sono 6-7 decimi, dai, in qualche maniera magari riusciamo a trovare qualcosa. Sì, perlomeno di riuscire a fare una gara insieme, di educarsela, insomma... D'accordo, dai. Allora, in bocca al lupo per la Q2, ci vediamo in griglia. Ciao. Sì, ciao Crepi, grazie. Ciao. Gianno Ronzoni, neanche a fare la posta, il circuito, poi lo posso dire, di casa, dai, ti ha visto la Rearti campione della GP 250 nel lontano 2003, ti riconfermi dopo 4 anni, vieni qua subito, pole position, con un tempo un po' alto nella norma, ma bisogna dire che abbiamo oltre 50 gradi di asfalto. subito e già sempre lì, vedevo in sala di spiegheraggio questo red, 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 come è andata? Diciamo che fa un caldo bestiale, fa, no a parte niente, la moto andava benissimo, abbiamo provato ieri, ho avuto una caduta del minchio ieri per colpa mia e capita di... È una bella grattata, l'ho vista, è tutto rosso sull'anca. No, infatti, mi fa male con qualcosa di niente, ho un mio errore, mi sono ripreso, poi stamattina non ho neanche girato così, ho aggiunto la prova ufficiale adesso, la moto si è comportata benissimo, ci sono parecchi avvallamenti nella pista, però la pista è questa e bisogna giocarsi. D'accordo, dai, allora faremo qualcosa sul reparto sospensioni? No, guarda, dovrebbe andare bene così, la moto dovrebbe andare bene così, e niente, vediamo nel secondo turno, magari essendo un po' più freschine, tra virgolette, la pista, magari escono qualcosa, tempi migliori. Ti aspettiamo per oggi alla Q2, grazie Jarno. Ciao ragazzi, ciao.